Amici di comproevendosubito.it, oggi voglio parlarvi di cavalli e del meraviglioso mondo equestre. Se siete appassionati di questa meravigliosa creatura, la prossima offerta è dedicata a voi. La Movie Horses, azienda specializzata da anni in produzioni video sul mondo equestre, vi propone, ma solo per il periodo natalizio, un cofanetto di 10 DVD a scelta, al solo costo di 89 euro più un piccolo contributo spese. Cosa vuol dire 10 DVD a scelta? Che potrete scegliere tra oltre 40 titoli nazionali o di importazione, 10 DVD per la vostra collezione privata. Volete il DVD del grande Monty Robbers? Bene, nella galleria c'è. Volete imparare la BC della Monta Western? Anche quello c'è. La Doma dolce del grande John Lyon? Ebbene, sì, c'è anche quella. Ci sono così tanti titoli che il mio consiglio è quello di andare su vendoecomprosubito.it e scegliere tra oltre 40 titoli la vostra collezione video personalizzata. Ah, dimenticavo, in omaggio riceverete il contenitore porta DVD a soli 89 euro più un piccolo contributo per spese postali. Cosa aspettate? Un saluto dal vostro poppy!